Carissimi ascoltatori di Radio Puggini e On Air, è un onore riunirci qui di nuovo. Se siete per la prima volta su questo canale vi invito anche a guardare altre puntate, ad ascoltare la mia musica, ad iscrivervi al mio canale Marco Puggini. Ma non voglio farvi perdere tempo, stiamo per condividere non solo le ultime notizie musicali, ma anche un viaggio nella vita, nella carriera del talentuoso Max Gazzè. Questo straordinario cantautore romano che ora esce di nuovo con un singolo che è davvero una sorpresa per tutti noi, perché lo ha annunciato a pochissime ore dall'uscita. Questo cantautore è una vera icona della musica italiana, dicevo la sua passione per la musica lo ha spinto sin da giovane ad esplorare il mondo della creatività sonora. Gazzè è nato a Roma il 6 luglio del 1967, ha iniziato a suonare il basso elettrico all'età di 14 anni, un'influenza che ha fortemente plasmato il suo stile musicale, che è davvero unico e straordinario. Dopo aver fatto il suo debutto nel mondo della musica negli anni 90, Gazzè ha continuato ad evolversi, regalando al pubblico hit indimenticabili, vogliamo ricordare la vita com'è e sotto casa. Il suo talento innato per scrivere testi intensi e melodie avvincenti, questo talento lo ha reso uno dei cantautori più rispettati e amati del panorama italiano. La sua discografia è una testimonianza del suo eclettismo, della sua costante evoluzione anche artistica. Alcuni dei suoi album più celebri includono Contro un'onda del mare del 1994, La faula di Adamo ed Eva del 98, La matematica dei rami del 2020, molti di voi la ricorderanno, solo per citarne alcuni. Ogni album ha portato un nuovo capitolo nella sua carriera e ha lasciato un'impronta indelebile nella musica italiana contemporanea. Ma la sua musica non è l'unico aspetto, non è l'unico aspetto che rende Max Gazzè un artista straordinario. La sua dedizione per l'arte e la sua ricerca costante della perfezione lo hanno spinto a registrare il suo nuovo album Amor Fabulas. Nei prestigiosi Real World Studios di Peter Gabriel in Inghilterra, questo nuovo progetto segna una collaborazione speciale con suo fratello Francesco Gazzè, per quanto riguarda la stesura dei testi. Una connessione familiare che promette di portare un tocco unico alle parole e alle melodie di questo nuovo prossimo album. E ora un'anticipazione emozionante. Il singolo che c'è di male sarà rilasciato praticamente tra pochissime ore alla mezzanotte di venerdì, quindi di oggi, 6 ottobre. Un assaggio dell'album Amor Fabulas che è previsto invece per la primavera del 2024 sotto l'egida di Sony Music Epic Records. Per accompagnare l'uscita del suo nuovo brano e anticipare al pubblico ciò che sarà l'universo di Amor Fabulas, Max Gazzè ha annunciato un tour autunnale che inizia il 28 ottobre, quindi anche questo tra pochissimi giorni. Questo tour, chiamato Amor Fabulas preludio, sarà un'opportunità straordinaria per i fans di Max Gazzè di immergersi nella sua musica e scoprire il suo mondo. Il gruppo che lo accompagnerà in questi indimenticabili spettacoli include sia membri storici come Cristiano Micalizzi alla batteria, Daniele Fiaschi alla chitarra, Clemente Ferrari alle tastiere e Max Dedo ai fiati, sia nuovi talenti come Greta Zuccoli ai cori e Nicola Molino al vibrafono. E ora andiamo a vedere insieme un attimo quali sono le date di questo tour. Vediamo, vediamo. Allora, il tour inizia il 28 ottobre, abbiamo detto, ad Assisi al Lyric Theatre, il 3 novembre a Catania, al Teatro Metropolitan, il 4 novembre Pace del Mela, Auditorium Pace del Mela, 5 novembre Palermo, Teatro al Massimo, 10 novembre ed 11 novembre a Milano, Teatro Lirico, il 12 novembre Trento, Auditorium Santa Chiara, 13 novembre Trieste, Politeama Rossetti, 17 novembre Cagliari, Teatro Massimo, eh scusate, 17 e 18 a Cagliari, 19 a Sassari, Teatro Comunale, 21 novembre a Firenze, Teatro Verdi, 22 novembre Genova, Politeama Genovese, 23 e 24 novembre a Torino, Teatro Colosseo, il 29 novembre a Forlì, Teatro Diego Fabri, 30 novembre Legnano, Teatro Galleria, 2 dicembre Pescara, Teatro Massimo, il 3 dicembre a Disernia, Auditorium Unità d'Italia, 4 dicembre Taranto, Teatro Fusco, 5 dicembre Lecce, Teatro Politeama Greco, 6 dicembre Catanzaro, Teatro Politeama, 7 dicembre Napoli, Teatro Augusteo, 12 dicembre Cascina, la città del teatro, 13 dicembre e 14 dicembre a Bologna, Teatro Duse, il 15 dicembre Padova, Gran Teatro Geox, 16 dicembre Senigallia, Teatro La Fenice, 19 dicembre Varese, Teatro di Varese, 20 dicembre Reggio Emilia, Teatro Valli, 21 dicembre Mantova, Teatro Sociale, 22 dicembre Alessandria, Teatro Alessandrino, 29 e 30 dicembre Roma, Auditorium Parco della Musica, Egno Morricone. Questo tour promette di essere una festa di note e melodie da ricordare con Max Gazet che delizierà il suo pubblico non solo con le sue canzoni storiche ma anche con l'anteprima di quattro brani inediti presenti nel suo attesissimo album del 2024 e naturalmente non possiamo dimenticare il singolo Che c'è di male che sarà protagonista in queste performance dal Viu ed uscirà davvero tra pochissime ore se non minuti alla mezzanotte di venerdì 6 ottobre e dunque alla mezzanotte di stasera potremmo dire Rimanete sintonizzati su Radio Puginion Air per tutte le ultime notizie su Max Gazet e per scoprire di più su questo artista straordinario che ha segnato la musica italiana La sua storia è una testimonianza della passione e della dedizione che alimentano la musica un linguaggio universale che unisce tutti Noi ci riascoltiamo presto qui a Radio Puginion Air